Il professor Pierluca Lanzi insegna molte cose interessanti, ma oggi in particolare ci parlerà della scienza dei videogiochi, quindi sia dei suoi aspetti ludici che anche degli aspetti ahimè matematici. Ci siamo chiamati Polimi Game Collective perché c'è una Copenhagen Game Collective che sono gente iper mega ultra, fantasticissima, eccezionalissima, che fanno giochi iper mega sperimentali e noi per imitarli però da un po' meno facciamo, ci siamo chiamati Polimi Game Collective. Questa è la pagina Facebook e questo è quanto. Ora stiamo parlando dei videogiochi. Quanti non giocano normalmente a dei videogiochi? Alzate la mano, non abbiate paura, sono sicuro, Fabio ti vedo, tu non giochi tipicamente, giochi a videogiochi, giochi? Ah, ecco, solitari sono inclusi, una volta una mia... Razor sì, c'è anche una slide su Razor, questa è la sorpresa, per me è la sorpresa del giorno, Fabio gioca a Razor. No, ma va benissimo, anzi. Ok, magari. Ok, allora la cosa, siete venuti da me a sentire qualcosa sui videogiochi. Ora, la cosa comica è che in realtà più o meno tutti, tutti in qualche modo abbiamo fatto dei giochi e dei videogiochi nella nostra vita, ok? Dei giochi. Quindi da un certo punto di vista tutti siamo dei game designer, da un certo punto di vista, e quindi tutti ne sappiamo di come si fanno i giochi. Quindi in qualche modo non è neanche tanto una lezione frontale in cui vi dico quello che è. in qualche modo cerco di farvi ricordare quello che voi già sapete. Quindi vi chiedo un atto di fede, è la prima cosa, un atto di fede che fate nei miei confronti, e al 3 io faccio vedere la prossima slide e voi ripetete con me quello che c'è scritto nella prossima slide. Non è niente di sconcio, è molto tranquillo. Però, 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 vi giuro che ha delle basi più o meno scientifiche, d'accordo? Quindi, 3, 2, 1, ok. Allora, il motivo per cui vi ho fatto dire io sono un game designer è perché lo siete davvero, lo siete stati, è come se avreste avuto una passata carriera di cui non vi ricordate. Perché tutti da bambini avete inventato giochi. E non c'è nessun game designer migliore di un bambino. In una presentazione che ha fatto di recente un game designer di giochi da tavolo qua al Politecnico, dice la cosa peggiore che può succedere a uno che fa giochi da tavolo, giochi così, è trovare un bambino che gioca subito al suo gioco e dopo due minuti ha trovato una regola che rende il gioco ancora più bello. E non è un caso, appunto, che ho anche messo il fatto di giocare nella sabbia, perché quando siamo in spiaggia, quando ero bambino nella spiaggia, facciamo giochi assurdi, no? Cioè, tipo, vuoi mangiare? Guarda, ho cucinato questa polpetta, che era fango, vuoi mangiare questa polpetta? E mia madre faceva, mmm, gnam, 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 e in fondo io facevo il venditore di polpette di fango, che peraltro erano vere polpette durante la mia cosa. Ora, quindi, dato che tutti abbiamo fatto dei giochi, e in fondo, in fondo, l'unico problema è che noi ci siamo dimenticati come fare. Vi immaginate io, che a quasi 50 anni vado in spiaggia con la mia compagna o con dei miei amici, faccio una bella polpetta di fango, e gli dico, vuoi mangiare la polpetta di fango? No? Non è più socialmente accettabile che io faccia certe cose. Ad esempio, sono stato a fare una presentazione a Cesena, e fuori, mentre stavo andando a vedere qualche chiesa, fuori c'erano delle bambine che si stavano lanciando le barbie, cioè, quindi c'era una bambina che faceva così, aveva la barbie in mano, la lanciava indietro, e c'erano tre bambine che cercavano di accapparla. Non ho ancora capito che gioco stessero giocando, se era una simulazione del lancio del bouquet, oppure proprio un'esecuzione della barbie, però questo era quello che c'era. E di fatto la nostra relazione coi giochi è estremamente, diciamo, è proprio dentro di noi, perché in un qualche modo anche gli animali giocano, i cani giocano, se vedete i piccoli cuccioli di leoni giocano, poi smettono di giocare, infatti diventano pericolosi dopo, no? Esattamente un po' come noi. La cosa interessante è che mi sono letto in un libro che stavo leggendo di recente, dicevano che addirittura c'è uno che, un entomologo che dice anche che le formiche hanno forme di gioco, sarei curioso di vedere come l'ha capito. E di fatto, se noi andiamo a vedere i giochi, i veri giochi, i giochi che troviamo da, diciamo, proprio storicamente, che hanno, diciamo, radice che abbiamo perduto, vediamo effettivamente che ci sono giochi antichissimi, c'è il Mancala, tutti i giochi del Mancala, che sono circa 800 giochi, una famiglia di 800 giochi, in cui di fatto si basa tutto sul fatto di avere delle buche per terra e delle cose che potrebbero essere semi, conchiglie, sassolini, in cui, in un qualche modo, si prendono dei sassolini, dei semi da una pozzetta e si ridistribuiscono sulle altre e si cerca di catturare le altre pozzette, quindi se sono semi, in un qualche modo, dà l'idea di qualcosa di agricolo. E il fatto che sia un gioco, a parte che si trova in molti, molti, molti continenti, la cosa interessante è che si trovano anche delle zone in cui le buche, le buche sono state scolpite in qualche, in qualche forma, in qualche tempio, quindi dà l'idea di essere rituale. Un'altra cosa simile, se avete mai giocato, è quello che viene chiamato, ed è, diciamo, copyrighted come nome, che è il non tarrabbiare, che in realtà, originalmente, veniva chiamato Ludi, oppure Parcisi, e quindi se andate, ad esempio, in India, c'è un, non mi ricordo dove è il posto, però c'è una tavola di Parcisi a grandezza naturale, cioè dentro una piazza, intendendo proprio che era una cosa abbastanza importante, considerata abbastanza importante. Di fatto, questo è il gioco reale di Ur del British Museum, che è sul 2500 prima di Cristo. Senet è ancora antecedente, sono tutti giochi ritrovati, in un qualche modo, diciamo, era anche una cosa abbastanza considerata, non solo da, diciamo, non solo da cosa popolare, come le buche nella sabbia, o la polpetta di fango, come faccio io, ma anche, di fatto, di un certo livello. Questo è un quadro, che grazie al cielo c'è il nome del pittore, perché non mi ricordavo, Printer Bruegel, il vecchio, non quello giovane, e che è, il dipinto si chiama I giochi dei bambini, è del 1560, e riproduce circa un centinaio di giochi. Ovviamente, il gioco dei bambini, però vedete che ci sono un sacco di adulti che ci stanno giocando. Giusto per dire che, in un qualche modo, abbiamo una certa relazione. Ho parlato di giochi, e voi dite, cavolo, qua è venuto a parlare della scienza dei videogiochi, strano che parliamo di giochi. Ho parlato di giochi, perché? Perché se voi prendete questi giochi, che sono giochi classici, ma giù di giochi da tavolo, che probabilmente meno gente adesso gioca di quando io ero ragazzino, di fatto è, dite, ma se io analizzo da un certo punto di vista formale questi giochi, e li confronto con dei videogiochi, tipo The Last of Us, Valiant Art, World of Warcraft, e il grandissimo Super Mario, posso notare che hanno un sacco di cose in comune. In realtà, dal punto di vista formale, gli elementi che compongono le due esperienze sono di fatto quasi identiche. e in effetti, se voi ci pensate, se lo mettete in inglese, videogioco, videogames, in effetti card game, board game, semplicemente il perfisso, quindi fra gioco da tavolo e videogioco, l'unica cosa che cambia è il media. In effetti, se voi andate a vedere gli elementi che compongono il gioco, un gioco, la prima cosa in assoluto, che dico, cosa c'è in un gioco, provate a vedere cosa c'è in un gioco, tutti iniziano a dire i pezzi, le regole, eccetera, eccetera, la prima cosa che c'è, che tutti si dimenticano, è che c'è un giocatore, o uno o più giocatori. È molto importante, è molto importante per questo, perché tutti sottovalutano l'idea che se io ho un gioco, devo anche convincere qualcuno a giocare. Provate oggi, se andate in treno, o se è tornata a casa, a dire, giochiamo a carte, provate statisticamente a vedere quanti vi dicono sì, ah certo, assolutamente o no. Ed è una cosa molto interessante, perché tutti pensano magari, sì, facciamo un gioco, sì, e per quale motivo qualcuno dovrebbe giocarlo? No? E l'importante è anche che, non è che potete obbligare qualcuno a giocare, no? Non potete dire gioca, no? Punto esclamativo, gioca. Provate a dirlo a un bambino, provate a dire, e adesso tu giochi con me? Inizia a giocare, non gioca davvero, cioè è un po' così, e la prima cosa che voi gli direte è, no, devi giocare seriamente, che è un'assurdità già detta, no? Gioca seriamente, mica vorrai giocare strano. E questa è una delle cose importanti, se voi dite, Pierluca viene a giocare con noi, io dico, guarda questo nuovo gioco, dico sì, che cosa bisogna fare? L'altra cosa che dovete dare è un obiettivo, e l'obiettivo di suo deve essere uno o più obiettivi, devono essere anche interessanti, o carini, ci potrebbero essere due obiettivi, che non mi interessano assolutamente, per niente, dentro un gioco. Ad esempio, giochiamo a Monopoli, ma sì, dai, perdiamoci queste 6-7 ore, per poi non finire la partita. Di fatto, se io vi metto l'obiettivo davvero, vi dico, dai, vieni a giocare con noi, e andiamo a rovinare tutti gli altri giocatori, mandandoli a chiederle lemosina, per le strade della città di Monopoli, In realtà, per la città di Atlanta, ok? Cambia totalmente, magari qualcuno dice, ma sì, dai, volevo proprio rovinarlo, e metterlo sul lastrico, quello là, quindi, accettabile o non accettabile? Io dico, che cosa bisogna fare, e cosa posso fare, quali sono le regole, l'altra cosa che chiediamo, notate che, anche la componente delle regole, è abbastanza importante, perché se io vi dico, ah sì, non ti preoccupare, tipica cosa, tipico gioco di ruolo, quelli belli, diciamo pesanti, sì, leggiti questi tre libri, e poi vieni a giocare, oppure, mi ricordo di una volta, che ho giocato a un gioco da tavolo, in cui tipo, un'ora e mezza, era la preparazione, con quello che l'aveva inventato, quindi, potete immaginare, se giocavo con gente, che non lo conosceva il gioco, e invece, se ad esempio, vi dicessi, venite a giocare a Dixit, quanti di voi conoscono Dixit, come gioco? Pochissimi, dovreste giocare tutti a Dixit, perché è veramente un gioco eccezionale, di fatto, se vi dico, giocate a Dixit, voi mi dite, cosa bisogna fare, vi spiego l'obiettivo, è difficile, ci sono tre regole, tutto il gioco è fatto da tre regole, ed è una cosa spettacolare da giocare, e potete giocarla davvero con chiunque, di fatto, una cosa che ci sono, dentro un gioco, sono le risorse, se giocate a scacchi avete le pedine e i vari pezzi, e di fatto dovete gestire queste risorse, ogni tanto queste risorse sono molto importanti, quindi se giocate a giochi manageriali, su computer, o anche giochi manageriali da tavolo, di fatto la gestione delle risorse è la cosa più importante, e un'altra cosa da non dimenticare è il risultato, cioè, il risultato non deve essere noto, d'accordo? In che senso non deve essere noto? Un game designer di giochi da tavolo, diceva sempre che un gioco, quando tu perdi, deve darti l'impressione che hai perso, però potevi vincere, no? Non deve essere una cosa che hai perso, è ovvio che hai perso, ma è ovvio che hai perso, e questo è anche molto importante nei giochi educativi, cioè, perché ci sono molti che dicono, dai, facciamo un gioco educativo, che insegna qualcosa ai bambini, no? Tipicamente, quando quei giochi non funzionano, tipicamente perché sbagliano a gestire, ad esempio, il fallimento, no? Cioè, se io, dato che, è ovvio, a meno che non sia un campione del gioco, e nessuno mi batte, perderò tante volte, e infatti, intanto, è interessante sapere che, un gioco, e un videogioco, mi insegnano più a, più a gestire la sconfitta, che la vittoria, perché la vostra probabilità di vittoria, in quattro, è sempre una su quattro, no? Cioè, è molto probabile che perdiate, e vi insegnano questo, però, nel momento in cui perdete, dovete se dire, ma, però, io ce la potevo fare, no? Ad esempio, pensate, briscola 3.7, i classici giochi di kart, comunque, vi lasciano in una situazione, abbastanza, così così, cioè, sempre che vi dà l'idea di, potreste aver vinto, ok? Una delle cose, eh, in Super Mario, ad esempio, giusto, apro una parentesi, in Super Mario Kart, l'idea di essere sempre sul filo, viene fatta, dall'intelligenza artificiale, che se voi andate avanti, non è come F1, che se voi andate avanti, gli altri che sto indietro, gli date il fumo, no? Vi arriva addosso di tutto, e all'ultimo, sì, vincete, però, se uno vi dava una botta di più, e vi buttava fuori strada, avevate perso, però, potevate dire, sì, però, se lui non mi dava la botta, e mi dava la sportellata, io avevo vinto, no? Quindi, ci rigioco. La cosa più interessante, più importante, cioè, uno degli elementi invisibili, più importanti, è il conflitto, ok? Il conflitto, che cos'è? Il conflitto è quella cosa che viene generata dal fatto che avete degli obiettivi, che chi ha creato il gioco vi ha dato, vi ha dato delle regole, e le regole, in un qualche modo, vi pongono un ostacolo rispetto all'obiettivo. L'esempio che si fa sempre è il golf, no? Se voi, per esempio, il golf, l'obiettivo è, prendi questa pallina, metti questa pallina dentro la buca, soluzione senza regole, prendo la pallina, mi faccio una bella passeggiata, sul prato, tranquillo, c'è il sole, fischietto, parlo con i miei amici, poi tutti quanti, mettiamo la pallina nel coso, vinto, vinto, bravo, però, di fatto, cosa faccio? No, è troppo facile, allora, sai che faccio? Allora, dico che non la puoi toccare con le mani, che hai bastoni, che devi lanciarla da centinaia di metri, troppo facile però, se ci fosse tutto a prato, dai, mettiamoci un po' di ostacoli, e non vuoi mettere una bella curva con gli alberi in mezzo, così devi farla così? Un po' come anche col mini golf, facciamo una cosa di questo tipo, no? Ora, quanto il conflitto è difficile da superare, ci dà un'idea di quanto il gioco può essere accattivante verso alcune persone, ad esempio ci sono dei giochi, dei videogiochi specialmente fatti apposta per persone, che sono quelli che vengono chiamati hardcore gamer, che se li gioca uno come me, muoio, finisco la partita dopo 10 secondi, e dopo 40 secondi il gioco finisce nel cassetto, no? Ci sono invece giochi semplicissimi che si basano su questo, no? Candy Crush Saga è una cosa di questo tipo, ad esempio. Ora, invece andiamo a parlare un po' di videogiochi, ok? Vediamo la nostra relazione sui videogiochi, quindi la nostra domanda, la domanda che vi pongo è che cosa ci emoziona in un videogioco? Pensate quando avete, l'ultima volta che avete detto cavolo, vorrei giocare a questo gioco, no? Pensate a questo, pensate a cosa vi ha ricordato. Io vi faccio vedere un po' di giochi. Grazie a tutti. 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 Io. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.